Dal decreto sostegni ITER buone notizie per i contribuenti. Infatti il decreto stesso ridarà la possibilità a quei contribuenti che a suo tempo avevano aderito alla rottamazione ETER o assaldo e stralcio e che entro il 9 dicembre 2021 non avevano pagato le rate sospese per Covid relative agli anni 2020 e 2021 di rientrare in bonus. Infatti il decreto stesso prevederà una scaletta di pagamenti e precisamente questo. In effetti entro il 30 aprile e con i termini di una proroga sempre e comunque previste dalla legge di 5 giorni lavorativi, quindi entro il 9 maggio il pagamento delle rate non pagate relativamente al 2020. Entro il 31 luglio più i canonici 5 giorni lavorativi bisognerà pagare le rate non pagate relative all'anno 2021. Entro il 30 novembre più i canonici 5 giorni in effetti bisognerà pagare le rate del 2022. In effetti dobbiamo dire che era una misura che noi invocavamo perché non era giusto in un momento di crisi totale prima per la pandemia e poi addirittura anche per la guerra che questi contribuenti pur avendoci messo buona volontà non avevano avuto la possibilità di pagare perdendo la possibilità dell'agevolazione delle sanzioni ed interessi relativi alle cartelle per le quali avevano aderito alla misura perché naturalmente tutto questo aggravava già la una posizione di gente che non era stata in grado di pagare precedentemente.